ben tornati in diretta in voce delle chiese su radio bequite evangelica la nostra diretta in trasferta nel giardino della casa valdese dove si sta svolgendo il sinodo delle chiese valdesi e metodiste tra i vari temi che nel sinodo tornano ogni anno ed è presente anche con una discussione proprio in aula sinodale c'è il tema dell'otto per mille dei finanziamenti dell'otto per mille di come vengono impegnati i soldi versati appunto dai contribuenti che scelgono di devolvere la chiesa valdese metodista il proprio 8 per mille di quali sono i settori che vengono coinvolti ebbene noi oggi parliamo proprio di 8 per mille ma ne parliamo con uno dei tantissimi enti beneficiari in parte anche di questi progetti e stiamo parlando dell'associazione mai soli un'associazione del pinerolese che collabora con vari enti del pinerolese al patrocinio dell'asl totre della diocese di pinerolo e appunto la collaborazione della tavola valdese io ringrazio e saluto i nostri ospiti quindi il dottor giovanni vaglienti che è presidente dell'associazione e la signora piera bolzoni che è socia fondatrice e referente proprio dei progetti dell'otto per mille per l'associazione allora io chiederei innanzitutto al signor valienti come è nata questa associazione mai soli perché è nata e che cosa fa buon pomeriggio a tutti i radioscoltatori e grazie per l'invito dunque l'associazione mai soli è nata nel 1996 su iniziativa di un gruppo di medici e infermieri dell'allora asl tot 10 che operavano in seno alla gruppo di terapia del dolore a quell'epoca non esisteva ancora l'unità di cure palliative e si sentiva la necessità di avere dei volontari che andassero ad alleviare il dolore alla casa proprio dei dei malati e per cui questo gruppo di medici infermieri hanno coinvolto alcuni amici conoscenti fra cui io e il sottoscritto e la signora piera e altri amici e abbiamo fondato questa associazione poi nel 1999 è nata la unità di cure palliative che prima non c'era e allora noi ci convenzioniamo subito con l'asl e abbiamo cominciato ad operare in tutto il Pinerolese, Valchisone, Germanasca, Valpellice con la missione di assistere i malati terminali di cancro a casa propria. Ma poi abbiamo iniziato altre attività di sinergia con le altre associazioni di volontariato del Pinerolese come il Rotary, il Lions, lo Zonta eccetera. Un esempio di questa collaborazione concreti, due esempi concreti faccio, abbiamo acquistato con l'aiuto di queste associazioni uno scanner ecografico portatile che è utilissimo per alleviare la sofferenza dei malati per poter inserire i cateteri venosi a casa anziché trasportare all'ospedale. Poi abbiamo donato tre televisori e tre riproduttori di DVD con una grossa dotazione di DVD per le camere dove avviene la chemioterapia. Nel tempo perciò si sono realizzati alcuni passaggi per cui lo scopo statutario originale che era destinato solo al malato oncologico si è esteso anche ai malati di patologie cronico degenerative ponendo sempre l'attenzione al fine di vita delle persone. Quindi un aiuto concreto ai malati ma anche ai loro familiari direi perché è fondamentale la familiare che deve avere anche lei un supporto permettendo il più possibile il rimanere a casa quindi evitando l'ospedalizzazione là dove si può e rimanere a casa ovviamente con il supporto di cure di sostegno e di palliative che evitano insomma delle situazioni molto drammatiche anche di dolore. Piera invece per quanto riguarda i vari progetti che avete messo in atto in particolare poi quelli con la tavola valdese cosa ci può raccontare? Il microfono per piacere, grazie. Noi conoscendo la chiesa valdese che è molto inserita sul territorio siamo venuti a conoscenza dei progetti dell'otto per mille e abbiamo grazie a questi progetti negli ultimi sei sette anni sempre in collaborazione con la struttura semplice di cure palliative dell'asleto 3 siamo intervenuti nel distretto, adesso li leggo perché non me le ricordo nel distretto pinerolese costituito dalla pianura pinerolese, dalle valli Pellice, Chisone e Germanasca per un totale di 47 comuni attraverso diverse attività assistenziali rivolte alle persone nell'ultima fase della loro vita. Non solo presso il domicilio ma anche se ospiti di strutture residenziali assistenziali come il rifugio Carlo Alberto di Luserna, l'asilo dei vecchi di San Germano e la chiesa valdese di Luserna e l'asilo valdese e altre strutture. Abbiamo promosso molteplici attività di formazione condotti da medici, psicologa e infermieri esperti nelle cure palliative rivolte al personale perché anche il personale trovandosi di fronte a queste situazioni ha bisogno di supporto e di aiuto e poi con l'intento di fondere la cultura delle cure palliative e per favorire attraverso il confronto proficuo e diretto con specialisti esperti un percorso di crescita professionale. Sono stati portati avanti per tre o quattro anni consecutivi diversi lavori di gruppo condotti dalla psicologa a favore degli operatori delle RSA, volti a lavorare sullo stress perché anche il personale ovviamente trovandosi di fronte a certe situazioni familiari ha bisogno di supporto e di aiuto e per far fronte anche al rischio di burnout. Questi lavori sono stati centrati su tecniche di visualizzazione, di rilassamento che sono risultate molto gradite e per cui si sono ripetute per alcuni anni. Quindi una serie di progetti anche sul territorio, lei appunto prima citava 47 comuni del territorio del Pinerolese, sono tanti e sappiamo che purtroppo la gente malata è anche in crescita quindi insomma certamente sono situazioni che vanno aumentando nella loro presenza. Ecco, legato al territorio e legato anche proprio alla voglia anche di far conoscere le attività di questa associazione, so che è in programma un evento per il prossimo 7 di ottobre se ricordo giustamente la data e sarà un evento proprio che vedrà presente la rete di collaborazione che voi avete instaurato e che avete intorno insomma per quanto riguarda l'associazione. Quindi qual è in sintesi insomma il programma di questa giornata? Magari lo chiediamo al Presidente poi se Piera vuole aggiungere qualcosa? Sì, la giornata ha il titolo, l'evento. Prima di tutto desidero ricordare che noi siccome non abbiamo nessun finanziamento pubblico, quindi viviamo delle nostre quote associative, del nostro 5 per 1000 e di donazioni di privati come la Chiesa Cattolica, la Chiesa Valdese, alcune industrie del Pinerolese tra cui la Freudenberg di Luserna mi piace citarla e la SKF, noi organizziamo degli eventi promozionali per esempio concerti e spettacoli teatrali. Per quanto riguarda i concerti mi fa piacere ricordare che anche lì abbiamo un buon feeling con la Chiesa Valdese perché sia il pastore di Pinerolo che è quello di Pomaretto ci concedono sempre a titolo gratuito l'uso del tempio per questi concerti. E fra gli eventi che organizziamo non per raccogliere dei fondi ma per farci conoscere perché noi siamo molto bravi a fare, poco bravi a far sapere. Comunicare a volte è difficile. Poco bravi a far sapere. Allora abbiamo organizzato in collaborazione con l'ASLE e la Chiesa Valdese questo grande evento che si tratta di cure palliative tra clinica, spiritualità e volontariato con la presenza di un grande esperto, il professor Sandro Spinsanti che è un teologo, psicologo, docente eccetera ha un curriculum lungo e quindi lo riteniamo questo evento come un evento di alta cultura. Certo è un momento anche giustamente per farsi conoscere ma anche per far sapere alle persone che se hanno bisogno ci siete. Ci sono associazioni come la vostra a cui poter chiedere una mano. Piera so che avete puntato questo evento anche sul tema appunto della spiritualità, sarà presente la moderatora della tavola valdese, la diacona Alessandra Trotta, credo anche il vescovo di Pinerolo, Derio Olivero, che insomma daranno uno sguardo spirituale anche al passaggio naturale della morte della nostra vita. Può partecipare chiunque a questo evento? C'è un numero limitato. C'è un numero limitato di 75 persone però ci sono tutte le indicazioni sulla locondina per la prenotazione. Poi non lo ricorderemo ancora. Bene allora io vi ringrazio per... Sì? Sempre il microfono? Sempre. Volevo ancora spendere due parole per il CAS di Pomaretto che è veramente per noi un risultato eccezionale che abbiamo ottenuto sempre con il finanziamento. Che cos'è il CAS? Il CAS di Pomaretto sono quattro posti letto, centro assistenziale a Valenza Sanitaria, dove i malati purtroppo terminali possono andare e avere la possibilità di avere un parente vicino eccetera. Questo progetto è stato totalmente finanziato dall'otto per mille della tavola valdese. È il più importante. È il più importante di quello che siamo... Avete realizzato sul territorio, certo. Abbiamo realizzato continua a essere frequentato. Sì. E volevo dire alcuni numeri. I beneficiari del progetto dell'OPM nel 22 sono stati 60 persone ricoverate presso il CAS di Pomaretto. Numero 70 persone seguite in ambulatorio di cure palliative perché esiste anche un ambulatorio di cure palliative. 1050 consulenze psicologiche a pazienti a congiunti per un totale di 189 persone in carico perché anche quando il paziente muore eccetera si continua a sostenere la famiglia e quelli più vicini per superare il trauma della perdita. E 1040 trattamenti individuali a piccoli gruppi fisioterapici occupazionali perché anche la fisioterapia serve per comunque alleviare il dolore. Quindi è un progetto importantissimo sul territorio. L'ultimo è il progetto a cui aderiamo, del progetto della diaconia questo, del progetto Famiglie Fragili in Oncologia in ambito oncologico. Che voi conoscete bene, presumo. E anche lì collaboriamo strettamente e qualche volta elargiamo anche dei piccoli contributi per la spesa, per comprare i pellet quando c'è freddo e non si possono scaldare, i trasporti che sono anche sempre molto importanti e molto richiesti. Certo. Sono tanti esempi di come si può fare qualcosa in aiuto al prossimo. In sinergia soprattutto. In sinergia, esatto. In rete tra le varie associazioni. Tra le varie associazioni. sul territorio. Io chiudo l'intervista. Grazie ad entrambi, al presidente Valietti. Posso fare un appello ai radioascoltatori. Un appello che vengano ad associarsi. Se vogliono saperne di più, telefonino al sottoscritto. Io do il mio cellulare in modo che mi telefonano e io poi li indirizzo alle persone che sapranno indirizzarli dove devono andare per iscriversi. Ma c'è anche un sito dell'associazione. C'è anche un sito. Si trovano tutti i riferimenti. Ma fanno più presto. Io ricevo tante telefonate. E lei così così. Se volete telefonarmi, telefonatemi pure al 335 56 12 119. Questo è il mio cellulare e potete chiamarmi per, ovviamente, se siete interessati a venire a far parte della nostra associazione. Associazione Mai Soli di Pinerolo, il presidente Giovanni Valienti, Piera Bolsoni, socio fondatrice. Grazie per essere stati con noi. Grazie a te. Grazie a voi.